Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Nuovo sciopero nel settore dei trasporti. Questo venerdì 2 dicembre per una protesta indetta a livello nazionale, anche a Roma e nel Lazio saranno possibili disagi sulle reti Atac, Roma TPL e Cotral dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 alla conclusione del servizio. Inoltre potrebbero non essere garantite le attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, ossia il box informativo a termini, il checkpoint bus turistici di Aurelia, lo sportello permessi in piazzale degli archivi e il contact center 0657003.